Buongiorno e buon sabato. Benvenuti al nostro mini giornale con notizie flash per le chiese avventiste. Dall'11 al 18 agosto a Casuccia Visani, a Poppi, si svolgerà il campo famiglie. Le prenotazioni sono aperte su famiglia.avventista.it, capofamiglia 2019. Saranno presenti il pastore Roberto Iannò, direttore del Dipartimento della Famiglia, e sua moglie Anna Calà, in qualità di direttore del campo. Il pastore Franco Evangelissi di Guerrino, come animatore della parte spirituale. La psicoterapeuta Deborah Giombarresi, come animatrice della parte psicologica. Alessio, Laura e Andrea Puglisi, per l'animazione musicale per i bambini. Maggio è tempo di Ratuniaisa. Da questo fine settimana e per i prossimi tre, gli scout delle chiese e dei quattro campi si ritroveranno in diverse località per concludere l'anno scout e tirare le somme delle attività svolte. Il raduno è un appuntamento molto atteso da tizioni ed esploratori. Monteranno le tende dove dormiranno. Ogni club si occuperà della cucina e preparerà il suo territorio per realizzare un campo creativo e originale. I ragazzi vivranno momenti spirituali e saranno loro stessi a organizzare i giochi in entrambi le giornate. E ne siamo sicuri, ritorneranno a casa stanchi ma felici. Grazie per averci seguito anche oggi e buon sabato a tutti. Grazie.